Nello scorso video vi ho illustrato tutte le fasi di un'attività didattica volta allo sviluppo della creatività e del pensiero divergente, utilizzando queste meravigliose carte misteriose. In questo video andremo a vedere come lavorare sulle consegne. La consegna è proprio la modalità comunicativa concreta con cui andiamo a dire ai nostri alunni o studenti come e cosa devono svolgere. La consegna, come vedrete, cambierà a seconda delle fasi evolutive e dei relativi obiettivi sia specifici d'apprendimento che formativi. Imparare a regolare la propria attività didattica, la propria proposta e le consegne, quindi anche dal punto di vista comunicativo, è fondamentale. Nelle classi in cui sono presenti alunni con bisogni educativi speciali siamo coscienti di avere dei dislivelli all'interno del gruppo classe. Inoltre gli alunni con bisogni educativi speciali spesso presentano dei dislivelli nelle varie aree di sviluppo che non sono sempre coerenti o organiche alla età effettiva. Bene, se volete sperimentarvi nella progettazione di un'attività didattica potete farlo, vi consiglio di guardare i video precedenti in cui vi ho indicato i vincoli e troverete il link sia in descrizione che qui che alla fine di questo video. Bene, il tempo della sigla e sono con voi. Per chi non mi conoscesse sono Maria Teodolinda Saturno e vi do il benvenuto e un ben ritrovati su Diversi Tutti, il progetto che promuove culture e prassi didattiche inclusive. Per saperne di più sulle nostre risorse formative per i docenti e sul mio percorso professionale e le pubblicazioni trovate i link in descrizione. Sulle consegne voglio farvi degli esempi il più possibile concreti. Fatemi sapere nei commenti se vi risuonano e se volete arricchire la mia proposta con scenari alternativi. Bene, ai bambini fra i 5 e i 7 anni presenteremo questa proposta didattica come le carte misteriose. Per fare questo gioco serve guardare molto bene, aprite bene gli occhi perché ciascuno di voi vedrà cose diverse, cose che solo i bambini possono vedere e le cose che vedrete sono così importanti che adesso accendo il registratore così poi potremo riascoltare tutto. In queste carte ci sono tante cose, cose che solo i bambini riescono a vedere. Volete provare? Cosa vedete in questa carta? Nel caso dei bambini più piccoli si crea l'attesa enfatizzando con i gesti e con il tono della voce. Non so se avete notato ma ad ogni bambino è stato affidato un ruolo insostituibile. Ciò accresce l'autostima e li incoraggia a fare nuove proposte. Il ruolo del docente che sa già tutto, che pone domande retoriche di cui conosce già la risposta, non è contemplato. Infatti il presupposto di partenza è che le carte nascondono cose che solo i bambini possono vedere. Vi ricordate del terzo principio guida per sviluppare la creatività? Bene, con questo accorgimento nello storytelling creo le condizioni per far svanire la paura di provare, di sbagliare, di creare. Per il solo fatto di essere bambino posso vedere qualcosa che l'adulto non vede. Ogni sguardo quindi è giusto, è corretto, è bello, è autentico nella sua diversità e non a caso siete su diversi tutti. Questo accorgimento quindi nello storytelling ci permette di fare un ulteriore passo. Seguitemi, fidatevi, lo so che all'inizio non è semplice. Se non avete idea del costrutto sulla coevoluzione vi invito a dare un'occhiata alla serie dei video o al libro in cui l'ho approfondito. So però che molti di voi l'hanno letto, hanno visto i video e quindi conoscono questo costrutto. Quindi procedo. attenzione, quando noi riusciremo a convincerci intimamente che bambini sono maestri di creatività, allora sapremo che ciò che loro vedranno nelle carte è il correlativo oggettivo della bellezza, dell'autentica sapienza. Ascoltateli, fidatevi di loro e avrete molto da imparare. Nel riuscire a vedere queste carte con gli occhi di un bambino scoprirete cose nuove e soprattutto scoprirete che state coevolvendo insieme a loro e questa è a mio parere la chiave dell'inclusione. Non voglio aggiungere altro in questo video perché vi ho offerto diversi spunti di riflessione su cui vi invito a ritornare anche riguardandolo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi sembra troppo difficile, se qualcuno di voi è già su questa lunghezza d'onda. Per noi è molto importante sapere se siete pronti a seguire questa direzione e quindi se proseguire in questa nei prossimi video più operativi dedicati alla didattica vera e propria. Quindi mi raccomando lasciate un cenno di gradimento e un emoji bussola. Nel prossimo video di questa serie vi esemplificherò concretamente le consegne relative agli alunni e agli studenti più grandi. Intanto se vi fa piacere provate anche voi a scrivere le consegne che fareste relative proprio a questo brainstorming ai vostri alunni o studenti. Bene, per questo video è tutto, spero vi sia stato utile. Qui accanto trovate altri video suggeriti da diversi tutti e naturalmente quello relativo alla serie sulla progettazione didattica. Grazie per l'attenzione, un caro saluto a tutti e alla prossima!